E' una domanda da un milione di dollari, nel nostro fa surf, ma anche nel nostro in realtà non fa surf, nel senso che vorrebbe fare surf, e poi invece è schiacciato presso da un sacco di cose che lo inchiodano. Quindi fa surf nel senso che vorrebbe farlo. Ne vedo poche, però credo che non è giusto neanche dire nelle sue manifestazioni. Cerco, l'importante è cercarla, le manifestazioni di Dio, anche se poi sai che non ci sono. E' una specie di ricerca, manifestazioni di Dio, manifestazioni di, non lo so, di bellezza, di spiritualità, chiamalo come vuoi. Il secondo è stato più semplice, perché se vieni da anni di gavetta sei un po' preparato. Il problema è quando il successo o il presunto tale arriva improvvisamente, quindi da un signor nessuno diventi una boy band, per esempio. E quello può fare anche molto male, noi no, eravamo già abbastanza vaccinati. Sono molto divertito, era una data importante, ancora ci sono delle cose da mettere a posto, però mi sembra che ha funzionato bene. C'era tanta gente, non ha risposto bene qui. Grazie a voi.